un altro acquisto creativo sempre per per le mie per le mostre di mercatini eccetera eccetera mi mancano le parole ho fatto un ordine da per le tue creazioni e che poi sotto vi scrivo pure il link del suo profilo e da lei ho acquistato alcune bellissime cosittine allora vi faccio vedere questi che sono dei vetrini sono quelli molli molli non so come si chiamano sono da 4 per 3 centimetri visto che ne avevo 10 di questi belli grandi ho voluto prendere i cabochon quelli che sono tipo adesivi questi e mi è costato 2 euro 5 di questi valevano un euro quindi ne ho presi due poi questo è suo maggino grazie mille poi vi faccio vedere le cose più belle che ho preso quattro orologi che mi sembravano più grandi però sono piccolini ma sono adorabili c'è questo con il gufetto dietro è fatto così molto carino carino poi due di questi ho preso questi quattro perché erano rimasti soltanto questi quattro design quindi questi ce ne sono due mi pare ecco qua dietro è fatto in questo modo e poi questi gufettini che sono adorabili ecco qua e dietro è così insomma dietro sono quasi tutti uguali poi ho preso questi portafoto che all'interno poi si apre come vedete si apre poi questa micro bustina che mi sembrava più grande però va bene lo stesso molto carino per le collane e poi ho preso sempre portafoto questo a forma di cuore con la rosa e questo è con i fiori questo è quello che ho preso da per le tue creazioni